Camilla Di Pumpo avrebbe compiuto 26 anni tra poche settimane, ma purtroppo è stata strappata prematuramente al suo futuro, alla sua famiglia, ai suoi affetti. La giovane è rimasta uccisa in un terribile incidente avvenuto intorno alla mezzanotte tra il 26 e il 27 gennaio scorso nei presi del centro storico di Foggia, tra via Matteotti e via Urbano. La vittima era alla guida di una Fiat Panda che per cause ancora da accertare si è scontrata frontalmente con un'auto che giungeva nel senso opposto di marcia. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte del personale del 118. La 25enne è deceduta dopo un'ora in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che indaga sulla dinamica dell'incidente e sulle responsabilità del conducente dell'altra auto coinvolta nel sinistro. Sarebbe stato denunciato a piede libero invece il passante che avrebbe asportato dal luogo del sinistro pochi minuti dopo l'accaduto e con la giovane ancora nell'abitacolo della propria auto il suo cellulare. Una scena ripresa da alcuni residenti della zona che nel giro di poche ore ha fatto il giro del web e permesso alle autorità competenti di individuare l'autore del furto. Camilla aveva conseguito la laurea in giurisprudenza e condivideva la professione forense con il suo compagno e presidente Aiga Foggia, l'avvocato Mario Aiezza, che poche ore fa sulla propria pagina Facebook ha condiviso un commovente messaggio dedicato alla compagna e all'intera comunità che si è stretta intorno a lui e alla famiglia della ragazza. Avrei voluto mettere questa foto che tu adoravi in un nostro momento importante, scrive il compagno di Camilla. La metterò ora però in un momento di atroce e lancinante dolore, un momento nel quale il tuo sorriso e i tuoi occhi sono stati crudelmente e ingiustamente spenti.